E allora ci siamo? E allora iniziamo? Questa è cosa nostra. A cos'è finiste? E a cos'è denigliiste? Questa notte siamo venuti qua per fare una serata in famiglia. Mentre aspettiamo il boss ci sono i cescagnozzi che mandano avanti tutte cose. A noi ci hanno sopronomenati il braccio ad essi e il braccio sinistro. E' casa nostra. E' cosa nostra. E allora siamo tutti quanti pronti. E allora baciamo le mani a Bussiglia. 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 È verione. E' pronto DJ? Il Tecno Sano E piano piano prende forma Piano piano dietro dentro Questo è un assaggio per Capodanno Lo sai, vero? E lo so Perché questa notte siamo venuti a darvi un pezzo Di quello che succede a casa nostra Ma soprattutto vi ricordiamo lo specialissimo appuntamento Speciale 31 dicembre Il Capodanno più fuori d'Italia Vi aspettiamo tutti quanti ad Aosta City E allora chi ha voglia di godere si avvicina piano piano alla console Questo è un set a quattro mani Ma fatto solo con un cuore che basta Direttamente dal Censurate Pigallo Speciale Mickey Joint, Flowers UK Noise Generator Questo è il cuore della musica E allora non ti fermare fino al sorgere del sole Fammi godere Speciale Mickey Joint, Flowers UK Ha la voce Super Nike La voce che fa tremare i tolti dagli E allora fammi godere Piccina Fiii! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!